Il destino delle guardiane stellari è proteggere l'universo. Ma chi proteggerà noi? Alcuni affermano che la nostra fine sia già stata scritta. Ma io non credo più nel destino. Se la nostra storia non cambierà, sarò io a farlo. E' già stato il punto di cuore e poi non perdendo l'universo. Io prima ho inizialito un po' di più nel senso. E' ancora un po' di più. E' già tutti. E' già un po' di più. E' già un po' di più nel senso. E' già un po' di più. E' già un po' di più. E' già un po' di più. i destini.